Partiamo dall'invasione russa dell'Ucraina e dalla strategia che l'Unione Europea ha adottato subito dopo, la cosiddetta Repower EU, che ha previsto appunto la drastica riduzione della dipendenza dalle forniture di gas russo. A questo poi si è aggiunto ovviamente il ban nei confronti delle importazioni sia di carbone che di petrolio. Ma rimanendo sul gas naturale, questo ha richiesto ad aziende come Eni e a paesi come l'Italia di adeguarsi rapidamente. E siamo riusciti a farlo in tempi, credo, brevissimi, grazie a tutta quella rete di alleanze con i paesi fornitori, di rapporti stabiliti da decenni, che ci ha permesso di fare leva, quindi su dei partners affidabili e alternativi. E quindi il gas dalla Norvegia, dall'Algeria e dal Congo, come da tanti altri paesi, è affluito in quantità maggiori verso l'Italia. Italia che si è anche avvalsa per questo della rete di gasdotti, che ha a disposizione, a differenza di altri paesi, e sempre più poi saranno utili i nuovi rigassificatori, che consentiranno l'arrivo di maggiori volumi di gas naturale liquefatto. Già oggi vediamo che le percentuali di gas russo sulle importazioni italiane sono scese, credo, al 2%, circa, e sono in effetti destinate ad azzerarsi col 2025.